Gli piacciono i piedi, quindi pass Voi ragazze, un attimo per capire, dato che a lui 2010, voi di che anno siete? Bravo Smash or pass? Ma stai scherzando? Stasera sono qui a Brescia con un nuovo Smash or Pass Che ci sta? Iniziamo un attimo, vieni come mi chiamate Sara Naila Arianno Giada Carla Allora ragazze, un attimo, prima di inquadrare i ragazzi Siccome vi sembra questa situazione, questo Smash or Pass Così, ci sta o? Non tantissimo Non, perché non tantissimo? Perché sei il mio miglior amico Gazzetto Gli do palo io Cattiva No, no Te invece che sensazioni hai? Ci sta? Ci sta? Forza Forza, non esageriamo Vediamo Cazzo che le piace Cercate di farmelo capire dopo, che se mai riesco un attimo Sì Te, che impressioni hai? Boh Positiva o negative? Positiva, dai Dai, però quel dai finale Tue prime impressioni Non ho un pensiero NPT Non parla tanto Te? Boh, non lo so Il cielo farà il suo dovere Esatto What? Camera man, passiamo ai ragazzi Boss, come ti chiami? Boshan Dobbiamo fare stordi qua BS oggi Adesso vi faccio vedere Vai, vai, vai Vai, vai Subito Vai Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh È forte Ok, ok È forte È forte È forte Sì Allora, vuoi presentarti un attimo con le ragazze? Presentati pure Piacere Murtada 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 Primo ragazzo Che ha fatto una presentazione diversa dagli altri Al posto di parlare e spiegarvi È passato ai fatti Facendo vedere un suo talento Quindi ragazze Per voi È uno smash o un pass? Pass Ok Pass Ok, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, sì? Aspettate Cosa che devo dire? Ti piacciono i piedi, quindi Pes Ti piacciono i piedi, quindi Pes? Mmm, Pes Sono il famosissimo Peppe Fetish Te? Pes 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 Eh, oh, però sai ballar bene 5 Pes ma sai ballar bene Va bene, va bene Secondo Vai, vieni, vieni Allora, presentati un attimo Come ti chiami Nella vita, fumo Tanto Vabbè, le loro due le conosco Lei è la mia migliore amica E lei pura Ok Per semplificare E loro tre Non so che sia Se dovessi descrivere Lorenzo Con una parola Cosa diresti? Tossico Tossico? Ok, vabbè ci sta Non si giudica Non si giudica Siamo umili Ragazze Ma per voi Il tossico È uno smash Relazione No, ecco Ci sta, ci sta Complimenti Va bene Comunque rispetto Rispetto per le donne Sì, quello ovvio Si toccano Un bravo ragazzo Quindi ragazze Guardi così Hai paura del suo squadro Per voi È uno smash Un pass Pass Come va a far quello L'effetto C'ha ragione Ci sta, ci sta Smash per il loio Perché è un mio amico Apprezziamo Apprezziamo Va bene Ci sta, ci sta Pass Pass Smash o pass 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 Ok Non vi piacciono i tossici No, no, no Dipende Dipende No, no Relazione tossica Vabbè Questo è importante Questo è importante Quindi te Io Il tuo smash Hai ricambiato? Alla mia amica Quindi se Solo amica Solo amica Non esageriamo Non esageriamo Mi fido Mi fido Mi fido Quindi fratello Non scappare Che dopo saremo Alla fase finale Di questo smash o pass E gli smash ricambiati Allora fratello Ciao 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 Sono Shar Shar Non fumo Faccio calcio Studio Sono facciato un anno Di scuola Però sono bravissimo Bravissimo? Sì Per voi È uno smash O è un pass? Smash Eh Spesso Amore Ma ci sta Ma stai scherzando Guardate che Sono 010 2010 E quindi sono più piccolo È 2010 Sono 2010 Voi ragazzi Un attimo per capire Dato che lui è 2010 Voi di che anno siete? 2008 2009 2008 2009 2009 Eh qui ci sta Va bene dai Più o meno Dai oh Un annetto Per voi È uno smash o un pass? Pass Smash Smash o pass? Pass Bravo ragazzo Che non fuma però pass Va bene Però ti ha fatto un complimento Pass Oh fratello Ti hanno fatto complimenti Forse l'età Ha inciso Ha inciso Quindi hai un messaggio finale Ragazzi su questo è il mio fratello Il capo di BS Anche il capo di Europa Tutti su questo è il mio fratello Capo 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 Pensino d'onore per mio fratello Maranza acquatico Diseo Grande Tuffatore Prego adesso Dopo questo puoi dire quello che vuoi Sono per metà marocchino Metà siciliano Allora Mio fratello Metà marocchino Metà siciliano Vuoi aggiungere qualcosa? Pulito e molto geloso Pulito e molto geloso Di che anno sei? 2009 2009 Va bene dai oh Va bene Va bene va bene Ragazze Per voi Il metà marocchino E metà siciliano È uno smash O è un pass? Smashino Io sono special Vuoi dire qualcosa? No no Va bene Va bene va bene Pass Pass ok Anch'io smashino Ok Poi mi spiegheranno cosa significa smashino Ma no va bene Smashino Nuovo trend Smashino Smashino 100% Però ha tempo per convincere Una persona di conoscerla Magari nel tempo Ok ok Anche per voi così La via di mezzo Ok la via di mezzo Ok Perché c'è mia sorella che guardo Giulia Giulia Ciao Giulia Lui sarà il tuo cognato fra poco È un bravo ragazzo Io garantisco Garantisco Perché c'è mio fratello che mi guarda Come si chiama tuo fratello? Se in futuro mai ci sarà un matrimonio Io farò testimone State tranquilli Questi quattro smescini Sono Spagata la roda Sono ricambiati questi quattro Smash o c'è uno In particolare Sono ricambiati Sono ricambiati Specialmente a lei Specialmente a lei Quindi tu vuoi un attimo Regalare questa metà rosa a lei Giuro Se passa quello che dà le rose Le compone regalo una a lei Oh l'ha detto Stringetevi la mano Ho detto Ho detto Ha detto eh Fratello come ti chiami? Marian Allora Presentati un attimo Una tua breve descrizione Ciao sono Marian Sono metà Romeno metà Moldavo Ok Ho 15 anni E Sono qui di Brescia Centro Allora presentati un attimo Vai pure Allora Vuoi dire qualcosa Prima che faccia la fatidica domanda Sincero no Niente da dire Aspetti in caso Va bene va bene Ragazze per voi L'abitante Cittadino di Brescia Centro Biondo L'unico Biondo qua presente A parte me Perché ridete? Per voi È uno smash O è un pes O è un pes Smash perché sono metà rumeno Anch'io Ah quindi C'è fate il vostro Ah Mangiamo rumeno insieme Tipo Tipo ti amo Si dice sushi pull Giusto? Mi è stato detto così a me? Sì 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 Così vedo È giusto Non sbaglio No no Ah ok I rumeni nei commenti Se sbaglio Ditemelo Non lo so Per te è uno smash O è un pes Pess Smash perché è rumeno Smash perché è rumeno Smash Perché cosa abbiamo Questa simpatia per i rumeni Mi piacciono i rumeni Ok in generale Spaccano Spaccano Top G Top G Oh Sono serio Non sono serio Ah no Sono bravo Non sono bravo Inquadra che bravo ragazzo Sono nuovo Non sono nuovo Top G Sei qua ancora Finisco lui Stai qua Non scappare Per te è uno smash O è un pes Smash Smashino Ok Smashino Smash 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 No no Smash 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 Va bene Smash Bravo bravo Non c'è smash Bravo bravo Smash or pass Smash Oh L'ha detto lui Non ho detto niente io Ok Allora Aspetta quanti ne ho presi Esatto quanti ne hai presi 4 4 Anche tu Dai dagli un bacio Ti devi spaventare Qua non è un po' Fratello vieni qua Allora mio fratello Madrileno Che ha preso Tre canne Raffa La mette in mezzo Ti c'ha di Riders Eltre a uno L'idea Vabbè ci sta proseguiamo Proseguiamo Poche gioie nella vita Allora vuoi presentarti un attimo Mi chiamo Budi Sono un ragazzo simpatico Tratto bene le ragazze E Sono simpatico Non esagero Sta umile Sta umile Sta umile Ho preso i contatti Io andrò in clinica Smecciato Jordan 4 Viola Real Viola Proseguiamo Proseguiamo Per Budi È uno smash O è un pass È troppo piccolo Pass Di che anno sei? Sono 0-9 0-9 0-9 È il mio fratellino Si è ciotto tutto Te? Pesso Va bene Va bene Allora Big smash perché Gli voglio stra bene A mio amico Big smash Proprio Attenzione Ah ok 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 Voi? È mio amico Però No no Ok Mi amico Stessa cosa Ok quindi due pes Ma con molto affetto Con molta amicizia E con molta eleganza Quindi vuoi dire qualcosa Per questo tuo smash subito? Vuoi dire qualcosa Non si dice Grazie Budi Per questa sua smash or pass È stato veramente gentile Grazie a lei Grazie a lei Come ti chiami? Diciamo Vuoi presentarti un attimo Vuoi descriverti? Non parla l'italiano Lui è egiziano Ragazzi Lui è egiziano È faraone Non sa dirvi altro Che non parla bene l'italiano Ha 18 anni Per voi l'egiziano È uno smash O è un pass? No smash Cioè pass 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 Eh però C'è Pass 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 Un video mamma Niente Mi encanta Tavaina Oniari Guardate che Eferon È il secondo Ramsise Secondo Ramsise No 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 Quali sono le vostre constatazioni finali un attimo Prima di arrivare alla parte finale che vi porto i smash cosa cosa ne pensate? L'unico che volevo smasciare se n'è andato Ma c'è qua attorno? Dov'è? Ma se lo chiamo adesso? Pallo tu mi rego Vieni 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 No è stato in giro Ascolta me Ascolta me vieni qua un attimo Ascolta me Ascolta me Vieni qua un attimo Come ti chiami? Gioele Spezzone del video che non è nello smash your face questo Matti lo presentati a lei un secondo Ah un secondo? Tu ascolta me Piacere Piacere Hai un complimento per lei Così se la vedi la prima volta cos'è che ti viene in mente? Qual è un complimento che faresti? Bella ragazza Sono scopamico Tu vuoi dire un altro complimento? Un bel ragazzo Un bel ragazzo Se la dovessi vedere per la prima volta Per approcciarla cosa le diresti? Il tuo reeds Andrei Da lei Attaccherai il bottone in qualche modo Educato Gentile Ti piace come metodo d'approccio? Sì Ma se ragazzi Al termine di questo video Un bacino veloce qua davanti a me Oh Qua davanti a me un bacino veloce dai oh Un bacino veloce Eh Velocissimo Vai vai Velocissimo Baccio 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 Lei vuole Dai Anche il suo compleanno La taglio se vuoi Va bene così Non ti piace? Bravo 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 Perché? Lascia stare a Donnie Gazzetto Vuoi dire qualcosa? Ci siamo giallati troppi baci Ah 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 L'ha detto lei L'ha detto lei Quindi un attimo Arriviamo alla fine di questa Smash or Pass ragazzi Prendo quelli che voi avete smashato Ve li porto E voi dovete sceglierne Uno Quello che per voi è Big Smash No 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 Ma è quello che ti ha regalato la rosa Sì Lo conosci già o No no non lo conosco Vorresti su Instagram Gli lo chiedo a lui Va bene Va bene amicino Sì Vieni 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 Allora Allora a lei è piaciuto il gesto della rosa Sì dai Sei stato davvero carino Sei stato un uomo Quindi adesso tira fuori il telefono fratello Apri Instagram E scambiatevi questo Instagram un attimo Scambiatevi questo Instagram Bravo 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 complimenti 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 Voi eravate interessati a conoscere qualcun altro No no Non dico niente Perché c'è sempre il fratello che ci guarda Esatto Ti sono scappate Non so chi ti aveva dato Chi era la ragazza che ti voleva di più Non me lo ricordo Ok Però hai un messaggio per lei È stato un piacere conoscerti Basta Commentiamo su Instagram Così vi scambiate l'Instagram 2526 Marian Eh però Non mi devi scrivere Non ti devi scrivere No Perché? Tra poco mi sposo Ti sposi? Manca poco Un chi? Non si può dire Ti sposi? Assolutamente fratello Grazie Congratulazioni Quindi dovete fare qualcosa Tipo può fare la concubina Sì esatto La concubina La Per rovinarmi il matrimonio Ok poi rovinare il matrimonio Va bene va bene ci sta Non è male Pianificarlo Così non è male Ma io che cazzo Ragazzi se è stato un piacere Lasciate un like Un commento Quello che volete Il prossimo video Scegli la cassa giusta Ah così Non scopate Cioè Non vi sposate così Scopate sempre Ah Funziona dici? Hai da provare Quindi ragazzi Ditemi le prossime città Dovevo venire a fare i prossimi Smash or PS C'è poco da dire Iscrivetevi Un bacio Sai che sono pazzo Dentro il cervello